la strega dell'acqua di diane hevret letto da la musifavolista 1 quando robert si sposò rimanemmo deluse era da tempo che desideravamo che si sposasse dal momento che il nostro unico fratello e da quando papà è morto il capo della famiglia nonché il responsabile dei nostri affari ma avremmo voluto per lui una moglie diversa noi le sue sorelle avremmo potuto scegliere molto meglio per lui anzi a dire la verità avevamo già messo gli occhi sulla ragazza giusta una giovane dolce sensibile di ottima educazione che non avrebbe detto no ne sono sicura se solo robert le avesse fatto capire da parte sua certi sentimenti ma nell'estate del 1872 mio fratello fece una vacanza all'estero e la prima notizia che avemmo da lui fu che aveva deciso di sposare frederica frederica che nome noi l'arcombe ci chiamiamo da generazioni semplicemente susan e ann oppure mary ed elisabeth io mi chiamo mary sicché sentire quel nome fu un autentico shock le nozze vennero celebrate a mentone in tutta fretta perché la matrigna di frederica era in procinto di risposarsi con grande dispiacere della ragazza non fu una debolezza da parte di robert non prendersi neanche un po di tempo per riflettere o forse la prese come scusa per infrangere le tradizioni dei l'arcombe se ci avesse riflettuto come doveva infatti il fidanzamento con ogni probabilità sarebbe stato rotto frederica aveva una sua rendita personale piuttosto esigua veramente e tutte le spose dei l'arcombe hanno portato in matrimonio fino a questo momento una cospicua dote e suo padre che era un generale aveva preso bene sembrava l'annuncio del matrimonio ma i nostri motivi di soddisfazione finivano qui il generale la portò a fare la nostra conoscenza tre settimane dopo le nozze e la ragazza ci fece l'impressione di una fragile creatura a cui si adattava benissimo quel nome bizzarro che aveva ricevuto aveva un timore incredibile di nostra madre e di noi figlie sicché il nostro primo incontro non fu quello che si può chiamare un successo poi robert la condusse a londra e quando nacque il bambino un maschio ma così debole che non sopravvisse più di due giorni lei si ammalò seriamente e non riusciva a guarire non dubito che lui a quel tempo si fosse reso conto finalmente di aver commesso uno sbaglio io ero la sorella preferita visto che avevamo la stessa età e quando si trovò in difficoltà a roscawen si rivolse a me roscawen era un posto di brughiera che robert aveva preso in affitto in quegli ultimi tempi vicino al confine con la scozia poiché ci avevano fatto capire che un cambiamento radicale d'aria ed ambiente avrebbe giovato sicuramente a frederica la quale aveva accolto volentieri la proposta di trasferirsi la lettera di mio fratello però mi lasciò non poco stupita cara mary scriveva senza perdere tempo come la sua caratteristica in inutili preamboli prepara i bagagli non appena riceverai questa mia e raggiungimi qui dopo domani viaggerai diretta a york quindi ci incontreremo a draycott holt dove il treno pomeridiano effettua una fermata richiesta freda è un po nervosa e non le piace vivere qui da sola perciò mi trovo nei pasticci desidero che tu le tenga compagnia durante le settimane in cui mi troverò a shepstow lo so che farai questa gran cortesia al tuo affezionato fratello robert larcombe questa sua richiesta improvvisa e la certezza che sarei corsa in suo aiuto mi fece ripensare ai bei tempi in cui eravamo tanto affiatati con frederica ancora molto lontana dalla scena era un po nervosa diceva e robert si trovava nei pasticci a causa sua ecco un ennesima dimostrazione del suo errore non mi era così facile in quel momento allontanarmi dai miei impegni specie per un periodo indefinito tuttavia decisi di soddisfare la curiosità di famiglia di non dire niente agli altri e di fare come mi si chiedeva quando scesi dal treno a draycott holt trovai robert che mi aspettava in macchina caricò le valigie nel bagagliaio e io salì accanto a lui scoprirlo così felice di vedermi mi fece ripensare un'altra volta ai vecchi tempi ma che brava ragazza mi disse sei venuta subito senza farti pregare noi larcombe non siamo soliti farci pregare no e mentre dicevo questo mi resi conto che lui di quei tempi doveva aver preso una certa dimestichezza con le smancerie quelle di frederica allora gli chiesi qual è il problema riuscivo a vederlo solo di profilo mentre mi rispondeva poiché era occupato a mettere in moto la macchina ti ho detto che era stato stabilito da settimane che mi recassi a shepstow insieme a faulkner visto che non è prudente girare solo con una pistola per queste brughiere e non posso portare freda con me perché il cottage di shepstow non è adatto alle esigenze di una signora c'è solo una camera capisci che io e faulkner dovremo dividere freda è nervosa poverina per via della malattia e chissà perché ha cominciato a prendere roscowen in antipatia sono tutte fantasie chiaro ma devo pur far qualcosa ma come avevi scritto a mamma che vi innamorati tutti e due del posto e pensavamo che fosse perfetto oh il posto va benissimo sono solo fantasie della mia povera ragazzina te ne parlerà immagino ma tu cerca di distrarla avrai la stanza di faulkner e finché lui non tornerà ho chiesto a vickers di venire a pranzo chi è vickers è un vicino che abita sull'altra sponda di roscowen water il fiume che nasce da un laghetto di montagna è laureato in scienza e in medicina e ha scritto alcuni libri di una genialità incredibile mi pare di aver capito che ne stia scrivendo un altro e che sia stabilito qui per avere un po di tranquillità pur non essendo uno sportivo è davvero un bravo uomo non gli dispiace chiacchierare con faulkner e sta diventando un caro amico di freda sai leggono l'italiano insieme no non è sposato e non è nemmeno prete disgraziatamente e non ci sono altre donne nel raggio di miglia la cerca disperatamente lo so quando io non ci sono era inevitabile così ho dovuto scegliere se chiamare te o nostra madre e ho pensato che eri meglio tu stavamo attraversando un selvaggio paesaggio di montagne impervie e spoglie seguendo il corso del fiume verso nord il fiume scendeva a valle precipitosamente gonfiato d'acqua dalle recenti piogge in quel punto la strada si divideva e attraversava un ponticello lì il fiume compiva un salto su una roccia tuffandosi dentro uno stagno profondo che schiumeggiava di spuma e di schizzi mi sarebbe piaciuto fermarmi ad ammirare lo spettacolo ma la macchina lo superò velocemente permettendomi solo un breve sguardo e robert subito dopo mi disse di guardare una casetta di pietra che sorgeva sulle pendici del monte mi parve un'abitazione molto spoglia fiancheggiata da qualche faggio e priva di giardino la selvaggia campagna della brughiera arrivava addirittura sotto le finestre ecco roscoen disse è giusto un capanno da caccia capisci è stato appena costruito e non ha storia alle spalle più antica di ieri ero in trattative per corbi un edificio del diciassettesimo secolo con tanto di fantasma ma l'affare è sfumato e sinceramente ne sono lieto soggiunse e rise era una risata triste atipica per il harcombe atipica per lui un attimo dopo eravamo già alla porta fredda venne ad accogliermi e la trovai migliorata era davvero graziosa graziosa come può esserlo una creatura così fragile che un soffio di vento potrebbe portar via da un momento all'altro era vestita molto bene sicuramente robert lo avrebbe notato e il suo unico pensiero pareva essere il marito gli si rivolgeva continuamente con ogni pretesto e sembrava nervosa o a disagio quando le spuggiva di vista devi proprio partire domani gli chiese a bassa voce dopo un po e io afferrai la risposta di robert il dovere mi chiama ma tu non dovrai più preoccuparti ora che c'è mary mi accorsi chiaramente che frederica invece continuava a preoccuparsi e che la mia compagnia non poteva sostituire neanche lontanamente ai suoi occhi la presenza di mio fratello ma questo assillo continuo non è forse il modo più certo per far spegnere l'amore il piano terra della casa era ripartito in un soggiorno che dava direttamente sulla porta d'ingresso e in una sala da pranzo quest'ultima molto spaziosa entrambi gli ambienti ospitavano una stanzetta più piccola la prima fungeva da salottino privato di freda e la seconda da sala delle armi dove andavano a fumare i gentiluomini di sopra c'erano due comode stanze da letto uno spogliatoio un bagno e dal momento che la mansarda non veniva utilizzata i domestici dormivano sul retro cucina la camera a me riservata della quale era stato espropriato il capitano falkner aveva una bella finestra e un piacevole aspetto mentre mi affrettavo a cambiarmi per la cena udì il murmurio del fiume che scorreva lì sotto anche se non potevo vederlo in quanto era nascosto dal pendio quando mi affacciai alla finestra tuttavia vidi una nebbiolina di spruzzi bianchi sollevata dal vento che spariva velocemente come una nuvoletta di vapore probabilmente in quel punto esisteva un'altra cascata così pensai che faceva spumeggiare il fiume sottostante ma non avrebbe il tempo di perdermi in speculazioni perché i larcomb sono soliti rispettare la buona regola della puntualità così allacciandomi di corsa alla cintura scesi immediatamente di sotto il capitano falkner si unì alla cena ma il quinto posto che era stato apparecchiato rimase libero i due uomini erano tutti presi dai preparativi per l'indomani tra i quali era prevista un'alzataccia poiché shepstow si trova a 30 miglia di distanza temo che ti annoierai mary disse robert come per scusarsi sono costretto a prendere la macchina ma tu e fredda potrete divertirvi con il suo calessino così potrai dare un'occhiata al paesaggio qui intorno mentre io sono via dovrai tollerare la nostra vecchia giumenta lo so che ti piacciono i cavalli focosi ma questa cavallina così tranquilla va benissimo per fredda che ama fare passeggiate in solitudine e poi vickers verrà a farvi visita tutti i giorni non so proprio cosa lo abbia trattenuto questa sera il mattino dopo fredda era triste e rimase incollata a robert fino al momento della partenza con una tale insistenza che io personalmente l'avrei trovata irritante se fossi stata il marito non sono neanche sicura che non facesse un ultimo tentativo perché non la lasciasse alle mie premurose attenzioni presumo anche se davanti a me non disse nulla quando i due uomini si furono allontanati fredda si fece portare il calesse e mi condusse a fare una passeggiata robert aveva fatto bene a prepararmi la cavallina tranquilla una dolce giumenta di nome grey madame che si era sbiancata sotto le nevi di numerosi inverni e che procedeva al passo ogni volta che la strada cambiava pendenza e tutte le strade di roscawen a ogni quarto di miglio si inclinavano verso l'alto o verso il basso era veramente una passeggiata estenuante e fredda non aveva granché da dire forse si stava ancora consumando per robert ma le brughiere fiorite e le colline ondulate erano uno spettacolo piacevole così ammantate dall'erica rosseggiante roscawen mi pare davvero incantevole esclamai spontaneamente e quando fredda convenne con me soggiunsi ti piaceva molto quando sei arrivata non è vero sì mi piaceva molto quando sono arrivata riconobbe ripetendo le mie parole ma non mi volle spiegare come mai adesso non le piaceva più doveva fermarsi in una delle fattorie degli altipiani dove si rifornivano di latte e burro davanti al cancello tirò le redini accingendosi a smontare ma la proprietaria le venne incontro consentendomi di assistere alla conversazione fredda le fece l'ordinazione e poi le rivolse una domanda spero che avrete ritrovato la vostra mucca signora elliot ho avuto un tale dispiacere quando ho saputo che era scappata sì l'abbiamo ritrovata signorina ma era morta nel fiume e per noi è stata una triste perdita era una bestia così giovane e stava per partorire il suo secondo vitellino mio marito non riesce a darsi pace e anch'io sono sempre sul punto di piangere è la quinta perdita che subiamo in un anno prima una pecora e due agnellini a marzo e poi il puledro che tirava il carretto a luglio fredda le espresse la propria comprensione non vi servono forse dei recinti più resistenti per tenere lontano il bestiame dal fiume la signora elliot arricciò le labbra e scosse la testa non nego signora che i nostri recinti sarebbero più forti se nostro signore ci desse i soldi per il momento facciamo del nostro meglio ma quando a quelle creature viene la smania dell'acqua soltanto la staccionata per i cervi riuscirebbe a tenerle ne ho viste abbastanza in vita mia e lo posso dire non lo so che cosa gli piglia da queste parti circolano parecchie storie sulla strega bianca ma io non ho mai visto streghe bianche io so soltanto che alle bestie gli prende la mania di buttarsi nel fiume e che poi ci affogano mentre ce ne stavamo andando domandai a fredda che cosa voleva dire la moglie del fattore quando parlava di una strega bianca e delle sue bestie annegate credo si riferisse alla leggenda di una donna che venne affogata e il cui spirito attira nel fiume le creature se lo domandi al dottor vickers te la saprà raccontare di sicuro sai sta studiando le leggende le superstizioni locali e queste cose insomma secondo robert sono tutte sciocchezze e probabilmente tu sarai d'accordo con lui quale fosse la sua opinione in merito fredda non lo disse aveva la carnagione trasparente e bastava un non nulla per farle cambiare colore mentre mi rispondeva notai un rossore inspiegabile sul suo viso e mi accorsi che per un minuto intero le bruciarono le guance perché mai le superstizioni di roscawen e la storia di una mucca annegata la facevano arrossire poi l'attenzione di entrambe cambiò oggetto perché gray madame decise di fare le bizze da quando fredda le aveva fatto voltare il muso verso casa la cavalla aveva migliorato sensibilmente l'andatura e trotterellava senza essere sollecitata eravamo arrivate a un crocicchio dove si incrociavano tre strade uno spiazzo verde triangolare con un'indicazione stradale al centro nella nostra direzione c'erano un dosso e una siepe le siepi posizionate qui e là nella regione sostituivano i muretti di pietra e la ruota destra del carretto andò a sbattere contro il dosso facendo impennare pericolosamente il calesse fortunatamente la ruota tornò a posto e continuò il suo corso fredda poco audace come conducente si era grappata disperatamente alle redini lo fa spesso domandai mi pareva che robert avesse detto che era tranquilla e lo è infatti o almeno così credevamo è la prima volta che si comporta in questo modo boccheggiò mia cognata che era rimasta senza fiato per lo spavento io invece non riesco a capire che cosa l'ha fatta imbizzarrire non c'era niente sulla strada assolutamente niente neppure un sasso fredda non rispose ma nel corso della giornata avrei saputo altre cose in merito a quel crocevia due dopo pranzo fredda aveva poca voglia di uscire di nuovo e così essendo la sua unica compagnia mi sedetti accanto a lei a ricamare ogni tanto per alternare il ricamo leggiavamo un libro a turno la lettura tuttavia languiva quando veniva il suo turno infatti fredda si stancava subito perdeva continuamente il segno e sembrava incapace di concentrarsi sulla pagina ascoltava qualcosa mi chiesi più tardi quando tra noi cadde il silenzio percepì un rumore che si sentiva a intervalli regolari un gocciolio d'acqua alzai gli occhi al soffitto aspettandomi di trovare una macchia d'umidità perché avevo l'impressione che l'acqua gocciolasse proprio nella nostra stanza vicino a me lo senti dissi pensi che si sia rotto il bagno il bagno al piano di sopra corrispondeva al salottino di fredda dove adesso ci trovavamo ma la mia ipotesi che si fosse rotto qualche tubo la lasciò completamente indifferente non penso che venga dal bagno rispose lo sento spesso non riusciamo a scoprire cos'è mentre smetteva di parlare udimmo di nuovo il rumore delle gocce che cadevano sembrava proprio sul tappeto in mezzo a noi due sollevai un'altra volta gli occhi al soffitto ma fredda continuò a lavorare al suo ricamo è molto strano commentai e stavolta anche lei fu d'accordo con me mi accorsi che tremava voglio andare di sopra decisi posando il lavoro sono sicura che si tratta del lavandino del bagno fredda non si oppose né si offrì di accompagnarmi tremò invece un'altra volta in bagno era tutto a posto e quando tornai di sotto il gocciolio era cessato poi qualcuno suonò alla porta e fredda cambiò di nuovo colore come era successo durante la passeggiata in quel posto tranquillo dove c'è poco andi rivieni l'arrivo di un visitatore è un autentico avvenimento il domestico annunciò il dottor beakers fredda gli porse la mano e fece le presentazioni di rito era l'amico che a detta di robert sarebbe venuto a trovarci spesso ma non corrispondeva affatto all'idea che mi ero fatta di lui con la fantasia era anziano e vero se i capelli grigi costituiscono un segno dell'età e gli occhi penetranti a essere sincera erano circondati da zampe di gallina eppure quando guardavi quegli occhi non facevi più caso alle borse in quegli occhi ardeva il fuoco della gioventù e della passione e la sua schiena era ancora perfettamente dritta con le spalle squadrate scambiamo qualche parola mi chiese se conoscessi quella parte della scozia e quando seppe che era la prima volta che ci venivo cominciò a magnificare roscowen e il circondario per la sua esigenza di tranquillità mi disse andava benissimo e mi assicurò che ben presto avrei scoperto come era già successo a lui che possedeva diverse attrattive poi mi domandò se conoscevo l'italiano e mi mostrò un libro che aveva con sé la vita nuova la signora l'arcomb stava scordando il suo italiano e lui le aveva promesso che l'avrebbe aiutata a rinfrescarselo perciò se per me non era troppo noioso sedere lì con loro propose di leggere il libro ad alta voce nel caso non lo conoscessi mi avrebbe fatto una breve sintesi del contenuto in modo che potessi seguirne la lettura io naturalmente avevo già sentito menzionare la vita nuova chi non la conosce ma la mia conoscenza della lingua in cui era scritto non andava oltre qualche frase moderna a uso dei viaggiatori gli rivelai perciò la mia incompetenza in materia e immagino che al dottor vickers non facesse piacere scoprirmi così ignorante comunque prese posto a un capo del chesterfield mentre freda si sedeva all'altro capo del sofà ancora rossa in volto e dopo un paio di osservazioni in italiano aprì il libro e cominciò a leggere presumo che leggesse bene le parole nette e fluide che uscivano dalle sue labbra suonavano perfettamente sconosciute alle mie orecchie e il dottor vickers dava all'autore il vantaggio dell'espressione e dell'enfasi drammatiche ogni tanto faceva qualche osservazione in inglese su certe difficoltà del testo oppure passava una domanda in italiano alla quale freda rispondeva con un monosillabo mia cognata teneva gli occhi fissi sul ricamo come se non volesse guardarlo anche quando la sua lettura si faceva più appassionata io però li osservavo tutti e due anche se non pensavo ma certo che non lo pensavo poi mi resi conto che il tempo passava e che la posta sarebbe partita tra breve avevo lasciato di sopra una lettera non ancora finita perciò uscì dalla stanza piano piano e salì di sopra a completarla quando l'ebbi incollata rientrai in punta di piedi nel salottino la porta era dietro un paravento dove scoprì la lezione di italiano era finita ed era in corso una conversazione in inglese freda mi parve piuttosto animata non potete dire che è una mia fantasia perché anche mary l'ha sentito ma voi non gliene avevate già parlato non l'avevate influenzata in qualche modo io non le avevo detto neanche una parola è vero mary disse rivolgendosi a me mentre attraversavo la camera a proposito di cosa vogli sapere visto che avevo dimenticato l'incidente a proposito del gocciolio sei stata tu a parlarne per prima io non avevo detto niente e poi si è andata di sopra a controllare i rubinetti no certo che non me ne avevi parlato ma perché c'è sotto qualche mistero rispose il dottor vickers il mistero è che la signora l'arcombe ha sentito queste gocce mentre nessun altro le ha sentite pensavamo che fosse autosuggestione ma voi avete dimostrato il contrario dato che le avete udite questo basterà convincere vostro fratello e adesso dobbiamo cercare seriamente la causa nel distretto di roscowen esistono numerose leggende che parlano di strani avvenimenti non vorremmo aggiungerne un'altra alla lista e dare a questo moderno capanno la nomea di casa infestata dagli spettri vero e sarebbe un fantasma alquanto strano non credete un gocciolio d'acqua ma voi stavate parlando delle leggende di questa regione sapete dirmi nulla a proposito di una strega bianca che affoga le bestie ne parlava giusto stamane la signora elliot alla fattoria quando ci ha detto che la sua mucca era negata nel fiume certo ho sentito già parlare di una mucca ritrovata morta dentro il lago mi spiace sapere che apparteneva agli elliot la prima storia che si sente dopo aver abitato per qualche tempo qui a roscowen è proprio quella cui accennavate e anche se l'ira di roscowen si scaglia contro di lei non posso fare a meno di provare tristezza per la strega bianca una volta era giovane bella benestante e possedeva terre e bestiame ma poi divenne molto infelice parlava con me ma guardava fredda mia cognata aveva ripreso il ricamo ma fece cadere goffamente prima il cotone poi il ditale era infelice perché il marito la trascurava lui aveva altre cose cui badare e lei non lo attirava più come una volta la lasciava troppo sola la moglie si ammalò dicono di consunzione e divenne d'umore malinconico passava tutto il tempo a piangere a camminare su e giù per le rive del roscowen water può darsi che sia caduta nel fiume per un incidente ma tutti pensarono a un suicidio e la seppellirono al crocevia il punto dove grey madame stamattina si è imbizzarrita intervenne fredda e trovatasi dall'altra parte della morte dice la gente sentendosi sola troppo colpevole forse per salire in cielo e troppo innocente per l'inferno desiderava avere la compagnia di qualcuno allora fa impazzire le pecore le mucche i cavalli delle sue fattorie di un tempo a volte anche qualche persona e le attira nel fiume loro la vedono almeno così si dice oppure ricevono un segno che allude in qualche modo a come è morta se la vedono lei li chiama una due tre volte e la terza volta sono costretti a seguirla che storia lugubre pensai mentre ascoltavo ma completamente assurda mi augurai che fredda non ci credesse ma di questo non potevo essere sicura che aspetto ha domandai se degli esseri umani l'hanno vista come dite voi come l'hanno descritta la leggenda dice che si vede gorgogliare nell'acqua della schiuma che galleggia e si scioglie da principio vaga nei contorni ma poi sempre più somigliante all'aspetto che aveva la strega bianca da viva qualcuno sostiene che compaia anche come una mano che ti chiama ma io non l'ho mai vista signorina l'arcombe e non ho neanche mai parlato con chi l'ha fatto avere una testimonianza diretta in casi simili è molto raro come probabilmente saprete perciò non so dirvi altro ma io ne fui lieta perché la storia era troppo tragica per i miei gusti gli avvenimenti di quel pomeriggio mi avevano mal disposta ero irritata con il dottor vickers probabilmente senza ragione ed ero irritata con la povera freda e cui fantasie si erano rivelate contagiose così come ero irritata infine anche con me stessa e stavolta per una giusta causa in qualche modo adesso che avevo sentito queste storie roscowen mi sembrava tutt'altro che il posto ideale per una malattia nervosa e avvertivo inoltre qualcosa di strano che non capivo ancora bene avevo quella sensazione che si prova quando inciampi in un oggetto a occhi bendati o quando ti trovi al buio e non riesci a capire che cos'è il dottor vickers accettò una tazza di tè dal vassoio dopodiché vedendo che non c'erano altri gentiluomini in casa tenergli compagnia si accommiatò come si conveniva dunque l'arcombe di nuovo via per un'intera settimana chiese a freda mentre ci lasciava la sua domanda era del tutto superflua pensai spazientita visto che doveva averlo saputo per forza quando gli era stato chiesto di fare le veci del capitano faulkner sì per una settimana intera rispose freda arrossendo di nuovo e non appena fummo sole si toccò la guancia con la mano come se le scottasse 3 il dottor vickers e le sue lezioni di italiano mi piacevano poco e avevo l'impressione che anche freda avrebbe preferito interrompere queste ultime il terzo giorno mia cognata aveva il mal di testa e mi pregò di fare le sue scuse all'ospite sicché toccò a me tener compagnia all'amico di robert il quale non mi parve assolutamente turbato dall'assenza di lei colse al volo quell'occasione anzi per rivolgermi delle domande sul gocciolio l'avevo più sentito dopo quella volta e quale spiegazione davo del fenomeno a dire il vero l'avevo risentito io e freda eravamo sedute entrambe le volte nel suo salottino parlavamo del più e del meno poiché tutte e due volevamo vedere chi di noi sarebbe stata la prima ad ammetterlo la cosa era andata avanti per più di un'ora e alla fine freda aveva lanciato un urlo isterico dopodiché il rumore era cessato ero stata propensa ad attribuirlo a manifestazioni spiritiche collegate a certi suoi poteri medianici ma presumo che sarei stata smentita poiché lo avevo sentito anche mentre mi trovavo da sola in camera mia con il dottor vickers mi lasciai andare il meno possibile e rimasi dell'opinione che andava cercata a una causa naturale del fenomeno e che se avessimo compiuto un'attenta ricerca prima o poi avremmo scoperto la verità confesso però che rimasi imbarazzata quando mi domandò come mai non riuscivo a spiegare perché i suoni udita da freda non fossero stati percepiti anche dal marito visto che robert come tutti i membri della nostra famiglia ha un udito eccellente fino al mio arrivo nessuno in casa tranne freda si era accorta del gocciolio per questo tutti quanti l'avevano attribuita a una sua allucinazione sì mi dispiaceva per freda risposi così alla sua domanda ma continuai a sostenere che la cosa migliore era non dare alcuna importanza delle gocce che non lasciavano macchie e che non venivano da un tubo rotto o da una cisterna troppo piena dovremmo far finta che non esistono è così che la pensate signorina l'arcomb e quando risposi di sì allora forse mi vorrete spiegare che cosa intendete quando parlate al plurale vi riferite alla causa naturale di nuovo una domanda imbarazzante alla quale non avevo alcuna voglia di rispondere probabilmente l'ospite se ne accorse poiché cambiò argomento e si mise a conversare amabilmente per un altro quarto d'ora poi si accomiatò pregandomi di comunicare a freda quant'era dispiaciuto per la sua emicrania sperava di trovarla meglio il giorno dopo quando sarebbe venuto a farle di nuovo visita e fu di parola la lezione di italiano si tenne sui toni colloquiali ma io ebbi di nuovo la sensazione che freda fosse disturbata da quella conversazione anche se potevo solo indovinare che cosa si dicessero in lingua straniera alla fine tuttavia riconobbi le parole domani no dette da lei e quando seguì una protesta da parte di lui la vidi scuotere la testa con decisione il dottor vickers non rimase per il tè come le altre volte possibile che freda temesse di averlo offeso a giudicare dalle lacrime che cercò di nascondere quando lui se ne andò quella notte feci uno strano sogno nel quale roscowen si staccava dalle fondamenta e precipitava dentro il fiume al richiamo della strega bianca e mi svegliai per lo spavento il giorno dopo la permanenza di robert a shepstow sarebbe finita quella sera infatti lui e il capitano falkner tornarono e un'atmosfera diversa sembrò per badere di colpo tutta la casa freda ritrovò l'allegria io non udì più il gocciolio e fino alla sera del secondo giorno non rivedemmo il dottor vickers tuttavia lo studioso mandò a freda un libro in italiano con diverse sottolineature insieme a una nota anche questa in italiano e quando mia cognata la pria e la lesse la fece immediatamente a pezzi presumo desiderasse che freda continuasse i suoi studi anche se le lezioni per un po venivano sospese a cena lo sentì dire che era molto occupato a correggere le bozze del suo libro passarono così i primi quattro giorni della settimana che robert avrebbe trascorso a roscawen ma la sera del quarto giorno mio fratello ricevette un telegramma nel quale gli si comunicava che era richiesta la sua presenza a londra in ufficio venne stabilito che robert avrebbe preso il primo espresso della mattina e che al suo ritorno sarebbe andato direttamente a shepstow dove avrebbe raggiunto il capitano faulkner passando per un'altra stazione freda avrebbe dovuto capire che non era colpa di robert e invece il suo spirito che si era appena risollevato cadde di nuovo a terra spero di non dover mai dipendere dalla presenza di qualcuno come lei dipendeva da quella di robert mi alzai presto per preparargli la colazione ma freda non scese aveva mal di testa mi disse robert e aveva passato la notte in bianco si sarebbe alzata molto tardi volevo essere tanto gentile da andare a vedere ogni tanto come stava più tardi mi recai da lei e mi sembrò una bambina che aveva pianto fino ad addormentarsi tra le lacrime con gli occhi ancora umidi e le guance bagnate allora presi un libro e tirai una sedia accanto al letto in attesa che si svegliasse aspettai a lungo continuava a dormire e dormiva pesantemente mentre stavo lì seduta e l'osservavo udì un'altra volta il gocciolio e per la prima volta mi accorsi che le gocce lasciavano il segno sul tappeto infatti e sulle lenzuola si vedevano delle macchie umide le avevano lasciate che idea assurda le lacrime di freda ma il gocciolio cessò prima che mia cognata si svegliasse e io decisi di non parlargliene sì aveva avuto un'emicrania mi rispose ora andava meglio ma non era ancora passata sarebbe rimasta a letto ancora un altro po allora di pranzo i domestici potevano portarle su una tazza di tè si sarebbe alzata più tardi nel pomeriggio e così dal momento che non aveva più bisogno di me dopo pranzo uscì a fare una passeggiata solitaria essendo libera di scegliere dove andare decisi di seguire il corso del fiume specialmente nel punto in cui scorreva sotto la casa dal quale avevo visto sollevarsi la schiuma la prima sera del mio arrivo a roscawen ero convinta di trovarvi una cascata ma in realtà c'erano solo le rapide alternate a momenti in cui l'acqua tornava liscia oppure creava degli affossamenti in uno dei quali desunsi era caduta in trappola la mucca degli eliot era una giornata d'autunno perfetta serena e calda ma senza lafa della calura estiva passeggiai dunque molto volentieri seguendo il corso del fiume su per le colline fino a un minuscolo dal quale sgorgava dopodiché feci ritorno verso casa si vedeva già la nostra abitazione quando assistetti di nuovo al fenomeno della fontana di schiuma era una colonna che saliva dalle rapide più o meno nello stesso punto in cui l'avevo vista la prima volta e poiché adesso non spirava un alito di vento non poteva liquefarsi tanto in fretta immaginai che al mattino presto o nelle foschie del crepuscolo era facile scambiarla per uno spettro specialmente perché mentre si dissolveva pareva fare dei movimenti e dei cenni di richiamo sorrisi tra me e me pensando che secondo la superstizione locale avevo visto anch'io la strega bianca solo che non avevo la minima voglia di correre dentro il fiume e di gettarmi nelle sue profondità e non avrei dato neanche soddisfazione al dottor vickers raccontandogli la mia esperienza quando rincasai mi affacciai nel salottino per vedere se fredda era di sotto doveva essere quasi l'ora del tè pensai sì era lì infatti e mentre aprivo la porta udì la voce del dottor vickers ascolta stava dicendo in inglese non voglio costringerti a decidere subito aspetta fino a quando non ti sarai convinta che a lui non importa niente secondo me però è già evidente mi bloccai sulla soglia non intendevo rigliare ma il tono della conversazione mi colpiva alla fine mi feci avanti e vedi che i due erano seduti l'uno di fronte all'altra ma la schiena del dottore copriva fredda mi parve che le avesse posato le mani sulle spalle ma di questo non sono sicura aveva l'udito di un felino e non appena entrai si girò immediatamente ah come va signorina l'arcomb mi stavo appunto per accomiatare da vostra cognata perché non credo che oggi se la senta di prendere lezioni anzi a dire il vero non mi pare in buona salute queste ricorrenti emicranie ritardano i nostri studi ma bisogna accettarle raccolse il libricino dal tavolo e se lo mise in tasca poi mi fece un inchino e se ne andò se fredda era agitata lo nascondeva benissimo e mentre prendevamo il tè parlamo del più e del meno della mia passeggiata e perfino del viaggio di robert più tardi però mi fece uno strano discorso credi che la signora l'arcomb sarebbe disposta a ospitarmi ad astonbury sarebbe davvero gentile se volesse prendermi con lei mentre robert disbriga i suoi affari non mi piace roscoen e non mi sento affatto bene potresti chiederglielo tu mary le risposi che mamma l'avrebbe ospitata senz'altro se era questo il suo desiderio ma che cosa avrebbe detto robert che mi aveva chiesto di venire a farle compagnia se robert era d'accordo avrei scritto a mia madre certamente ma lui era al corrente dei suoi progetti no rispose e non c'era tempo di consultarlo poiché desiderava partire l'indomani stesso forse potevamo mandargli un telegramma partire nella mattinata e passare la notte a york dove avremmo potuto attendere la sua risposta che avesse fretta di fare come mi aveva chiesto era palese tremava vistosamente e le era comparsa una chiazza rossa sulla faccia rispettai il suo desiderio ma il senso pratico dei larkomb mi indusse a chiederle come mai voleva partire così di corsa mamma avrebbe trovato strana tanta fretta e robert poteva avere a che ridire comunque se facevamo tutto con la dovuta calma sarebbe stata ricevuta senz'altro come gradita ospite avrei scritto a mia madre il giorno dopo mentre lei poteva mandare una lettera a robert tramite il capitano falcner dopo di che aggiunsi sei nervosa fredda è per via di quel misterioso gocciolio e quando vidi che assentiva in silenzio proseguì non dovresti preoccuparti di simili sciocchezze non è carino verso robert ma non può essere solo questo sono sicura che c'è dell'altro la mia domanda la mise ulteriormente sulle spine voglio essere una buona moglie per robert sapessi quanto lo desidero cara mary se me ne andrò riuscirò ad adempiere al mio dovere ad aston berry starò al sicuro per un po robert non capisce lui pensa che sia tutta una mia fissazione ho cercato di dirglielo credimi anche se è la difficile mentre parlava venne scossa dai singhiozzi ho il terrore di restare sola è una forza irresistibile ti prego mary portami via non riuscì a ottenere da lei nessun'altra spiegazione alla fine ci accordammo che l'indomani avremmo spedito due lettere e che ci saremmo tenute pronte a partire non appena fossero giunte le risposte forse si trattava di una fissazione isterica di freda ma io nutrivo altri sospetti freda però non nominò neanche una volta il vicino e io non potevo offenderla con delle insinuazioni quel giovedì mattina scrivemmo le due lettere convenute poi uscimmo a fare una passeggiata con gray madam la direzione scelta ci portò in aperta campagna e lo stesso al ritorno ricordo che freda aveva un tono più allegro e più spensierato del solito e non faceva che pormi domande su aston burry come se la prospettiva di rifugiarsi da noi la sollevasse mentre proseguivamo gray madam si imbizzarrì nello stesso punto dell'altra volta sebbene non vi fosse una ragione apparente di tanto terrore proposi di tornare a casa passando per un'altra strada la mia però si rivelò un'idea improponibile visto che avremmo dovuto fare parecchie miglia in più e attraversare un ponte ritenuto poco sicuro quando ci rimettemmo sulla strada che avevamo lasciato la cavalla fece le bizze e benché tenessimo un'andatura tranquilla e non facesse particolarmente caldo notai che aveva il pelo lucido di sudore quando arrivamo al crocevia per la seconda volta la povera bestia sollevò nuovamente le zampe per difendersi da una cosa invisibile che la terrorizzava e poi digrignando i denti partì a un furioso galoppo freda tentava di trattenerla per le redini ma non aveva la forza di fermare quella folle corsa e nemmeno di dirigerla eppure la cavalla come guidata da un istinto si teneva al centro della strada il cancello di casa era aperto e mi aspettavo che la bestia si dirigesse alle stalle invece si lanciò nell'aperta brughiera diretta al fiume avremmo potuto saltare giù ma non avemmo nemmeno il tempo di reagire perché un attimo dopo il calesse finì nel fiume si schiantò e poi non ricordo altro l'incidente ebbe un testimone come appresi in seguito era un contadino che abbandonò la zappa e si precipitò immediatamente da noi fu lui a trarmi in salvo dall'acqua stordita ma non soffocata dall'immersione una volta sulla riva ripresi rapidamente coscienza e il mio primo pensiero fu freda ma mia cognata purtroppo era rimasta imbrigliata nelle redini e la cavalla l'aveva trascinata giù dove l'acqua era fonda quando riuscì ad alzarmi ancora semi accecata e intontita e chiesi di freda scoprì che l'uomo si era già tuffato dentro il fiume e che con l'aiuto del dottor vickers e di un altro contadino la stavano trascinando fuori dall'acqua in un primo momento parve priva di vita e ci vollero diversi tentativi di rianimazione per farla rinvenire fu uno strano ritorno a roscawen freda portata teneramente a braccia e io appena in grado di camminare tutte due gocciolanti d'acqua di vera acqua e se non è pazzesco crederci le misteriose gocce d'acqua che entrambi avevamo sentito ci avevano avvertito fu impossibile allontanare il dottor vickers il quale naturalmente ci accompagnò a casa nonostante i dubbi che nutrivo sul suo conto dovevo ringraziarlo per come era intervenuto quando la vita di freda era stata sospesa un filo mia cognata del resto era troppo lontana da questo mondo per poter riconoscere chi le stava accanto ammetto tuttavia che avrei preferito avere quel debito di riconoscenza con qualcun altro e il sospetto che nutrivo su di lui mentre osservavo con quanta angoscia fosse preoccupato per lei e come la guardasse purtroppo si consolidava telegrafai a robert che cosa era successo e ricevetti in risposta il messaggio sto arrivando ormai avevo deciso di parlare di rivelargli qual era secondo me la vera causa dei problemi di freda dicendogli perché era necessario allontanarlo non tanto da una casa stregata quanto dall'influenza irresistibile che la terrorizzava la paura passata il rischio di morire sarebbero serviti a far rinascere l'antica tenerezza che esisteva tra loro personalmente almeno in quel momento quando vidi robert guardarla amorosamente come se fosse un giglio spezzato e quando lei gli gettò le braccia deboli intorno al collo me ne convinsi forse lo spavento passato lo avrebbe reso più comprensivo quando gli avrei detto la verità non pote dire che erano solo mie fantasie ma mi parve orripilato adirato e incredulo al tempo stesso vickers con tutta la gente che c'era al mondo e freda così condizionata che aveva timore di dirglielo timore di reclamare la protezione che le spettava di diritto e adesso la situazione era complicata dal fatto che vickers le aveva salvato la vita e perciò oltre a un bel calcio per cacciarlo fuori di casa gli spettava anche un dovuto ringraziamento e poi c'era il problema del rispetto sociale non solo suo ma anche di freda un pubblico scandalo andava evitato assolutamente freda non avrebbe sopportato né la vergogna né l'umiliazione non so che cosa si dissero i due uomini quando si parlarono ma il dottor vickers non tornò più in vista a roscawen e dopo un po venne a sapere per caso che era partito non appena freda fu in grado di muoversi accolsi il suo desiderio e la portai a aston bury mamma fu molto gentile con lei e prima della fine credo tra le due nacque un affetto sincero la fine arrivò presto passarono pochi mesi e freda cadde nuovamente in uno stato di torpore lo sciocca recato al suo sistema nervoso dissero era stato troppo grande perché potesse riprendersi robert era di nuovo un uomo libero e alla dichiarazione della guerra fu uno dei primi ad arruolarsi volontario robert si è distinto nel servizio prestato nell'esercito come tutti sanno e al momento si trova in licenza qui a aston bury in convalescenza dopo la seconda ferita e credo proprio che stavolta condividerà la scelta fatta da noi sorelle una persona molto più congeniale per lui di frederica dal nome semplice un vero nome l'arcombe mary come il mio ne sono lieta malgrado tutto però la povera freda ha lasciato un caro ricordo nella mia memoria e nel mio cuore quali che fossero le sue colpe i suoi difetti credo che lottasse con tutta se stessa per restare fedele a robert e sono certa che lo amava grazie per aver ascoltato la strega dell'acqua se hai pareri suggerimenti o domande da farmi puoi scrivermi su instagram oppure via mail nelle informazioni di questo episodio trovi tutti i link per contattarmi oppure per offrirmi un caffè noi ci vediamo alla prossima storia ciao 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 ciao